Non c'è pace per le strade di Ostia. Questa mattina l'ennesima buca è stata transennata in via delle Triremi all'altezza del numero civico 10. L'asfalto è sprofondato e per salvaguardare l'incolumità degli automobilisti, invece di ricorre ad una seria riparazione, si trovano soluzioni di emergenza decisamente inutili, come appunto delimitare lavoraggine. Gli abitanti della zona già prevedono il peggio e temono che le operazioni di ripristino non inizieranno in tempi celeri. Il comune ci ha abbandonato, c'è scritto su un foglio appeso ad una transenna, come ha abbandonato i residenti di Via Zotti, Via Isole del Capoverde, Via Isole Samoa e di altre decine di arterie in tutto il territorio. Un'area che sembra diventata un cantiere con l'unica differenza che i lavori non iniziano mai. Il decimo risulta il municipio che ha chiesto maggiori finanziamenti al Campidoglio per il programma triennale 2019-2021 delle opere pubbliche. Qualcosa potrebbe smuoversi in tempi più brevi solo per Viale dei Romagnoli. La strada è rientra in un bando da quasi 4 milioni di euro per la manutenzione ordinaria della viabilità municipale, ma anche in questo caso, nella migliore delle ipotesi, bisognerà attendere dicembre.